Ciao amori, come state? Benvenuti sul mio nuovo video per video. Allora, oggi sono qui per il speciale, speciale, speciale... A sorpresa. Faccio a sorpresa? Allora, abbiamo iniziato a vedere un traguardo fino ad ora, e quindi, che dire, possiamo iniziare? Sì, vogliamo iniziare, tanto avete già letto sotto dal titolo cosa è, quindi... Ma, che dire, iniziamo allora. Andiamo in scena. Ciò, dove hanno fatto orline a�izare? Yeah, yeah, yeah! Oh! Andiamo? Oh, st처럼. Allora, non vale. Grazie a tutti Grazie a tutti Mi stoppo così E metto 0,5 per E da così riprendo 1, 2, 3, 4 You know what I'm waiting for A corso conto in braccio fatto per le scale Confondere lo zucchero al posto del sale E ridere di niente che poi ci porta foto di noi Ad un selfie venuto male Allora Perché devo tenere la mano perché nel video l'ho fatto in quell'altro Ok, allora iniziamo A corso conto in braccio fatto per le scale Confondere lo zucchero al posto del sale E ridere di niente che poi ci porta foto di noi Ad un selfie venuto male Maybe You should pull the fucking trigger Pull the trigger I don't wanna come nobody gonna do Maybe You should pull the fucking trigger I don't wanna come nobody gonna do Pensavo a me Col mondo in mano Ma senza te Dov'è che vado Con tutta questa voglia di brillare su in cielo E di scordarmi di ero senza di te Pensavo a te Col mondo in mano Mi faccio vedere come viene Sempre a uno E di scordarmi di ero senza di te Pensavo a me Col mondo in mano Ma senza te Dov'è che vado Con tutta questa voglia di brillare su in cielo E di scordarmi di ero senza di te Pensavo a te Col mondo in mano Pensavo a me Col mondo in mano Ma senza te Dov'è che vado Con tutta questa voglia di brillare su in cielo E di scordarmi di ero senza di te Pensavo a te Col mondo in mano A questa Che mi sembra un po' difficile No perché Si vede che io Mi avvicino Poi lo stop Infatti lo stop Perché all'inizio Non sapevo mai Fare tipo Benissimo Benissimo Transition Transition Cavolo si Non mi ricordo Comunque Quindi Io Ora vi faccio vedere come sarebbe Come sarebbe Ora Come si fa Ora Comunque Ok Iniziamo Ok Sto fa Io Giro Lo rifaccio Perché Mi sono un po' male All'inizio Ma Mi è rimasto un messaggio A quei piccoli Qui Lo rifaccio E mi sono male Io giro così E poi faccio 0,5 Inizio la ripresa Da 3 2 1 Così È venuto È venuto Insomma Aspetta Lo rifaccio Perché Mi sono male Lo rifaccio Perché Mi sono male Così E poi 0,5 2 Lo rifaccio qui si sono volata sul letto perché è meglio se no non si vede sono volata sul letto ok allora da qui ora metto tutto 0,5x e vabbè e riprendo magari da qui vi rifaccio il pezzo dal 0,5x perché in effettivamente è un po' male ok siamo comunque alla fine e quindi mi metto l'ultime due e poi abbiamo finito mi sono divertita a fare questi mini tutorial e poi mi sono divertita moltissimo di creare i miei vecchi musicali mi sono un po' messa a ridere perché io già all'inizio quando avevo musicali io ero totalmente diversa da ora infatti se avete notato davvero cambierà tanto rispetto a nel 2017 quando ho fatto i tocchi cioè musicali vabbè musicali e ttok è passato un bel po' ormai comunque ok vi faccio questa vi faccio vedere come viene io sto così il video del video è in attesa però ok allora ah aspetta sbagliato allora facciamo un modo a aspetta a aspetta a a a a a a a a a e l'amore ma si fa ma è venuto male non so perché non so perché Grazie a tutti Ok E l'ultima è questa che vi ho messo 05X Non capisco perché fanno questo rosa 05X Ti provo E queste canzoni qua vengono davvero strane Tanto poi vi fosse questo risultato E' vero stranissimo Ok Pissi 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 pissi